ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo deathmatch parkour oggi siamo nel parkour mata mata ragazzi guardate qua siamo nel museo no nella casa non so di come cavolo si chiama ma mi sono scordato il nome comunque l'ho visto subito al social club un parkour così diciamo dove stanno questo museo questa casa non so come dirvi ragazzi ma ho detto subito prendiamolo che almeno porto qualcosa di diverso sul canale quindi siamo in questo parkour 15 minuti dura e spero che non si bisogna solo sali non bisogna solo salire ragazzi devo dire che mi sono abituato mi sono veramente abituato con la playstation 4 questo ragazzi ve lo giuro non ho premuto quadrato ha saltato solo lui ve lo giuro ok va bene vediamo di non gasarci troppo io io salgo dai meglio salire magari saltiamo ok grazie mille ragazzi vi voglio ringraziare per tutto il sostegno che mi date in ogni singolo video non finirò mai 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 per ringraziarvi perché nuovo tratto gta non sapevo cosa dire ragazzi quindi ho detto questo allora non so come ho potuto sbagliare lì comunque siamo 4 perché non entrava nessuno nella sessione manco i miei amici non sanno quasi mai online non lo so perché va bene ma sta qui l'ora che ci penso lo sapevo solo io ma non sapevo solo io solo io lo sapevo è arrivato è arrivato è arrivato ma non so cosa fare c'è il parkour praticamente questo dura 5 secondi e mi sparo tagliarmi e mi sa che il parkour lo continuiamo dopo qua nel nuovo parkour ci ho messo tipo 20 minuti perché 10 minuti per finire il parkour normale perché aspettavo che quello mi uccideva poi ci ho messo altri 10 minuti per trovare le persone perché se era cresciata la connessione perfetto quindi ragazzi 20 minuti sono passati proprio via 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 comunque è facilissimo magari forse oggi vi porterò tre video cioè domenica ok domenica perché io sto registrando di sabato uno di call of duty se riesco questo qua di gta e magari un altro di gta non lo so di preciso ma ragazzi spero di farvi contenti che registro comunque tutti questi video allora saltiamo qua qua è sempre tutto semplice magari se riesco ad arrivare no qua è meglio se non salto ok vabbè non è caduto oh non si è fatto proprio niente cioè raga non si fa niente è caduta da una posizione in cui io morivo proprio si ma scusa ma qua basta fare così cioè facendo così ragazzi si cittano in una maniera esagerata Ragazzi siamo arrivati Cioè Cinque minuti No è che cinque minuti Due minuti E' semplicissimo Però quello là c'avevi per lanciarazzi Perché non c'avevi per lanciarazzi Questo qua cosa fa non lo so Boom Vediamo uno se arriva di qua No faccio schifo Ok Ragazzi li miriamo tutti quanti col cecchino ormai E niente niente Parcours easy easy Magari mora Vediamo se c'è Vediamo se Oh Oh Ma si pazzo tu E muori Veloce prima che scappa No Ma che cosa i ragazzi indetteranno Dove stanno Dove stanno Eccoli Via Fregato Fregato no Ma fregato lui a me Mi hanno fatto un flambe A me ragazzi Direi di non dargli più fastidio Dai E quindi ci andiamo a fare Il parkour Di nuovo Dai ragazzi Farlo durare un po' di più Questo video Ultimamente ho fatto due parkour Veramente molto Come posso dire Easy Easy E corti Ma comunque Sono sempre parkour Ragazzi Volevo portarvelo Perché Facciamo un parkour Cioè Veramente in questo In una posizione Diciamo Mai fatta Nel luogo Mai fatto Qua c'è Una bella vista Ragazzi Fighissimo Vabbè Dai ragazzi Ci sta Ci sta Ci può stare Vi chiedo meno like Anziché di 60 70 Vi chiedo 68 Like Dai Ci può stare Ci può stare Ragazzi Ovviamente sto scherzando Dai Lasciate tutti i like Che volete Tutti gli dislike Anche che volete Io continuerò sempre A fare video Per voi Per voi Ok Perfetto Perfetto E Andiamo Perfetto Salta Grandissimo Ragazzi Il mostro Questa volta Non cittiamo Quindi andiamo qua Dai Non imbroghiamo Anche se Non cambia Dito Oh Attenzione Oh Vole Ok ragazzi Siamo arrivati Un'altra volta Le armi Ehm Loro Non lo sanno fare Sono tutte Due là Vediamo se Se li riesco A colpire Uno L'ho colpito Ecco Davanti Si è messo Questo qua Sta mettendo in pausa Non ti faccio Andare via Quello Alla Sta Nascosto Lì Vieni qua Vieni qua Vieni qua Devo fare i pipi Non ce la faccio più Mamma mia Perfetto ragazzi Siamo Arrivati Primi Ma siamo Veramente Troppo Troppo Forti A parte che Il parkour Era facilissimo Ragazzi Non lo so Se dopo arriverà Un terzo video Ma penso Proprio di sì Infatti Me lo metto a registrare Ora Un nuovo parkour Mi metto a registrare Dai Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Arriviamo a tutti I like che volete Commentate Condividete E iscrivetevi Per restare sempre Ci sono i miei prossimi video E ci sentiamo Al prossimo video Bella Ciao ciao Ciao